Sono esattamente al centro dell'Emilia Romagna, ho appena raggiunto Modena e questa è Piazza della Pomposa, uno degli angoli più suggestivi della città. Modena, la città del bel canto, dei motori e della buona tavola. Qui nascono alcuni dei prodotti di eccellenza che hanno reso famosa l'Italia nel mondo e tra questi come non citare il parmigiano reggiano. E a questo proposito vi porto a visitare un'azienda che lo fa a regola d'arte. E tra l'altro vi dirò di più, questa azienda è certificata Friend of the Earth, come potrà confermarmi anche Paolo Brai, buongiorno Paolo. Buongiorno Michela. Che di Friend of the Earth è il presidente. Paolo, quando questa azienda ha ottenuto la vostra certificazione? La certificazione è molto recente. Questa azienda è qua ormai da 50 anni, con la proprietà attuale, da secoli è inserita nel contesto ambientale. Non solo, è un'azienda a filiera chiusa, per cui tutto il foraggio utilizzato dall'allevamento proviene proprio dai campi, attorno all'azienda, di proprietà dell'azienda, non solo, sono tutti ad agricoltura biologica, per cui non utilizzano né pesticidi né erbicidi. Non solo il letame prodotto dall'allevamento viene utilizzato in toto per fertilizzare il terreno. Per essere certificato ha dovuto andare oltre e quindi è stato richiesto che stilasse un censimento della flora e della fauna locale, individuasse quelle che potevano essere le specie più a rischio e le proteggesse attraverso un programma di conservazione. E come avviene la certificazione? La certificazione è effettuata da enti di certificazione indipendenti, quindi da auditor professionisti che conoscono la produzione, che verificano in base ai molto restrittivi requisiti di sostenibilità di Friend of the Earth, che l'azienda produca in maniera sostenibile, sia per l'ambiente ma anche per i lavoratori. Questo è molto importante perché purtroppo il problema del lavoro nero è una piaga da debellare, da risolvere. E così acquisiscono il bollino di riconoscibilità. Questo è molto importante per l'azienda che può dimostrare ai suoi consumatori il rispetto di tutti questi parametri, ma è importante che il consumatore quando va a fare la spesa cerchi dei prodotti con questo certificato, con questo tipo di certificazione, perché solo così avrà la sicurezza del rispetto dei lavoratori e del rispetto dell'ambiente. E come amo sempre dire da quando ti conosco, Paolo, questi prodotti sono due volte buoni. Assolutamente, sono buoni perché l'azienda ha ottenuto tutta una serie di riconoscimenti, ha vinto numerosi premi a livello di qualità, sono buoni per l'ambiente e buoni per i lavoratori. Insomma, grazie Paolo, è sempre un piacere incontrarti. Grazie a te.